si parla spesso questo periodo del rapporto tra genitori e figli ma soprattutto tra papà e figli riflessioni che sono anche figlie eh quel gioco di parole pertinente del periodo che abbiamo vissuto che stiamo vivendo quello della pandemia eh vogliamo parlarne con Giovanni Abbaticchio papà di due figli e autore di un blog intitolato The Walking Dead Story Abbaticchio buona giornata benvenuto a Non Stop News buongiorno e grazie per l'invito buongiorno buongiorno allora siccome lei ha creato come ricordava Pierluigi poco fa un blog dedicato proprio a questo stato ripreso anche da da molti giornali lo chiediamo a lei allora questo periodo in cui ci siamo trovati da un lato a lavorare spesso da casa con lo smart working e dall'altro eh insomma la didattica a distanza a vivere un po' di più la dimensione familiare com'è cambiato il rapporto padre figlio? Beh credo che si è cambiato per un solo motivo perché eh abbiamo più tempo abbiamo molto più tempo da dedicare ai nostri bambini abbiamo più tempo da dedicare a alle nostre compagne alle nostre mogli insomma con chi eh condivide eh la nostra eh quotidianità genitoriale ehm e sicuramente è cambiato anche il modo di approcciarsi sia al lavoro ma anche alla gestione della casa siamo molto più eh partecipi e dentro le esigenze che una casa e dei figli poi comportano parlo sempre di di noi papà almeno per quanto mi riguarda è una grandissima fortuna naturalmente poter eh continuare a lavorare in modalità smart working se penso a tanti papà che in realtà poi hanno perso eh il lavoro eh mi reputo un privilegiato e quindi cerco di sfruttare al meglio questa occasione cercando di eh avere più tempo per per quelle piccole cose per quei dettagli eh che poi in un rapporto tra padre e figlio possono fare la differenza. Ci aiuti un po' a capire per esempio quanti anni hanno i suoi figli? Sì buongiorno ehm Ludovico ha sei anni e fa la prima elementare. Ok. Quanto sia importante per me e per mia moglie eh dargli l'opportunità eh eh di di frequentare di essere in presenza per imparare a leggere, scrivere, socializzare, emanciparsi anche come come piccolo individuo della quotidianità. Chiara ha due anni e mezzo quasi quasi tre quindi è in un'altra fase eh molto più esplorativa, ludica e. E anche un po' in fase papi? Papi papi? Molto 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 in fase in fase babbo. Io mi faccio chiamare babbo. Senti Giovanni ho una curiosità. Questo blog The Walking Dead Story immagino sia anche diciamo l'occasione per relazionarsi con altri papà. Immagino che sarai destinatario di storie, di aneddoti, magari anche insomma di di un confronto eh con altri papà. Che cosa ne esce fuori? Che cosa ti scrivono? Che cosa ti dicono? Grazie per la domanda. Mh questo è proprio un progetto nato per questa esigenza. Poter raccontare delle storie eh sono un videomaker quindi le racconto attraverso i video eh storie di genitorialità molto a sfondo sociale eh che possano essere diverse dalla mia quotidianità, da quello che io vedo ogni giorno in casa. Eh ci sono tantissime tantissime storie che mi arrivano tantissimi papà e tantissime mamme perché quella che ti ha colpito maggiormente una così? Eh quella che mi ha colpito maggiormente l'ultima che ho proprio raccontato sotto una loro eh voglia di di appunto raccontarsi di questi due genitori che hanno adottato un bimbo con la sindrome di Down ehm che ha subito tre interventi cardiologici eh nonostante eh la sindrome di Down nonostante questi eh piccoli incidenti eh sanitari sono riusciti ad adottarlo a crescerlo e a sentirsi genitori nonostante eh la l'impossibilità ad averne eh quindi eh questo è eh quello più 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 fresco poi ci sono tantissimi papà separati che che mi hanno scritto ci sono tantissimi papà che hanno figli disabili ehm immunodepressi ci sono tantissime eh mamme che vivono eh le stesse problematiche da viste da un'altra parte eh insomma Pierluigi ne arrivano davvero 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 tante eh mi piacerebbe raccontarle tutte ma in questo momento mi devo limitare a girare almeno le storie che vivo qui a Bari in Puglia. Sono storie molto belle così come è bella la tua di storia e il tuo farti portavoce del della voce degli altri eh degli altri genitori in particolare degli altri padri. È bello eh leggere sul tuo blog mi è capitato ieri l'esperienza di chi si è trovato a lavorare da casa lo dicevamo in apertura e ha detto prima avevamo le pause caffè da passare con i colleghi piuttosto che le pause pranzo adesso questi momenti sono tutti dedicati ai nostri figli tu in particolare racconti mi sono fatto truccare durante questo periodo mi sono fatto mettere lo smalto della serie cosa non si fa per i figli. È quello che diceva anche la collega prima in studio no? È il papi quanto le 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 figlie femmine ti possano come si dice da da noi allisciare cioè ti ti prendono ti fanno sedere ti offrono un tè finto ti obbligano a pettinarti a metterti una collana a giocare con la tua parte femminile che è importantissima va sviluppata e va soprattutto considerata ed è molto potente perché si crea un legame indissolubile. Nell'articolo che tu hai detto prima quella frase l'ha detto Daniele Marzano che è un altro papà blogger di Guida Senza Patente che dice proprio questo cioè abbiamo più tempo di staccarci un attimo da una colle a carezzare giocare due secondi con un bambino con nostro figlio sorseggiare un caffè e ritornare ed è una cosa ed è una cosa molto molto bella ma sai che sarebbe bello non so lo chiedo a Giuse e Enrico magari nelle prossime settimane quando abbiamo tempo però passare un'oretta con te risponde papà cioè nel senso sarebbe molto bello avere un papà blogger che risponde ai nostri ascoltatori mi piace anche se ci porti delle storie di quelle che tu racconti dai cerchiamo di indagare nel mondo dei padri ci sentiamo presto grazie Giovanni e Baticchio grazie a voi padre di due figlie soprattutto autore di questo blog di questo raccoglitore di storie The Walking Dead Story buona giornata buon lavoro grazie a voi Grazie a tutti